Mario Draghi moglie. L'episodio del G7. Quando la first lady in France la regola del low profile. L'americano, per l'esperienza all'MIT di Boston e alla banca di Washington. Mister altrove, per la capacità di dileguarsi dagli incontri senza che nessuno se ne renda conto. La termico, per l'abitudine scaramantica di non portare mai il cappotto. Super Mario, con allusione all'idraulico del videogioco Nintendo conosciuto in tutto il mondo. Tutti soprannomi che Mario Draghi non sopporterebbe. Lui così discreto. Geloso della sua privacy. Lontano dalla mondanità. Il premier pieno di fascino che con il suo consueto aplomb risponde alle domande dei giornalisti con altre domande. E chi gli sta accanto non è. Ne deve essere. Da meno. Tant'è che un articolo uscito su Repubblica, firmato da Conchita Sannino, si intitola. La moglie serenella è la scelta obbligata della riservatezza. E abbozza un ritratto della moglie del presidente del consiglio. La moglie di Draghi è Maria Serena Cappello. Sangue blu dipinto di blu, come direbbe Gerry Calà. La «first lady» è di fatti blasonata. Nobile di nascita poiché discendente di Bianca Cappello. L'avvenente sposa del granduca di Toscana, Francesco De Medici. La signora Serenella, come le scorte chiamano da sempre la professoressa di lingue. È nata a Padova il 28 luglio del 1947. Dunque è di qualche mese più adulta di Draghi che festeggerà a 74 primavere il prossimo 3 settembre. Nonostante la carriera brillante dell'ex numero uno della BCE e la conseguente esposizione mediatica, la coppia è riuscita a non mettersi troppo in mostra e ad evitare le prime pagine dei giornali.